Arzignano, due operai italiani feriti sono finiti in ospedale nel pomeriggio per un incidente sul lavoro in un'azienda chimica. Stavano facendo dei lavori di saldatura all'interno di alcune cisterne, ma nonostante indossassero i sistemi di protezione si sarebbero sentiti male e hanno perso conoscenza. Sono stati rianimati dai sanitari del SUEM, subito intervenute i semi tecnici dello SPISA, i pompieri e i carabinieri che stanno indagando sulle dinamiche dell'accaduto. Grazie